Potrebbe davvero essere stata la madre di Gianluca Caputo ad uccidere Giorgio Romano, 66enne di Matino. Trova conferme la versione del giovane imputato accusato di omicidio preterintenzionale, affetto da una serie di disturbi psichici per cui è in terapia da oltre un anno. Nella scorsa udienza il ragazzo aveva preso la parola per dire «Non sono stato io a colpirlo, è stata mia madre». Ora, a confermare quelle parole sono un brigadiere ed un assistente sociale. Il primo sentito nel corso del processo che si sta svolgendo in aula a Bunker ha detto che nell'immediatezza dei fatti il 21 marzo del 2009 ascoltò tre testimoni che diedero la stessa versione del 22enne. La seconda, che lavora nella comunità di cui è ospite il giovane, ha detto che lui, appena è stato meglio, le ha raccontato le stesse cose dette in aula. Il delitto risale a quattro anni fa, una banale lite per le vie del centro di Matino, non lontano da un locale pubblico. Volarono gli insulti, se il figlio di un bastardo avrebbe detto la vittima. Secondo la ricostruzione iniziale degli investigatori, il giovane, all'epoca 19enne, gli avrebbe sferrato uno schiaffo. Romano sarebbe caduto per terra sbattendo la testa sul cordolo del marciapiede. Dopo una degenza di oltre un mese, le condizioni dell'uomo si sarebbero aggravate fino alla morte. Erano trascorsi pochi giorni dalla festa del papà e il genitore del ragazzo, che viveva una difficile situazione familiare, era stato da poco arrestato. Ora il giovane sta meglio. Due mesi fa, davanti agli occhi attoniti dei giudici, la Corte d'Assise, presieduta dal dottor Roberto Tanisi e del sostituto procuratore Paola Guglielmi, che sostiene l'accusa in giudizio, prese la parola per dire, fu mia madre a colpire Romano, con una scarpa. Voleva difendermi dai suoi insulti. Nella prossima udienza, il 14 giugno, saranno ascoltati tre testimoni di cui, nelle scorse ore, ha parlato il brigadiere. La requisitoria del PM è attesa invece per il 21 giugno.